Musica Mercoledì 15 giugno 2016 ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che tutte le mattine va in onda in diretta alle 7 e mezzo e poi in replica in replica fino alle 8 e mezzo, poi c'è la messa, la replica subito dopo la messa alle 9 e 10 circa e poi l'ultimo passaggio della rassegna stampa in televisione è alle 13 e 30 ma è sempre disponibile sul nostro sito internet occhianotizia.it Cominciamo dal santo del giorno, lo vediamo subito oggi San Bernardo d'Aosta è stato un sacerdote, è morto nel 1981 il sole è sorto alle 5 e 24, tramonterà alle 20 e 53 il tempo lo vediamo velocemente, tempo buono comunque con temperature che sono in lieve aumento nei valori massimi dopo la pioggia dei giorni scorsi torna dunque il sereno oggi e domani fino a venerdì quando avremo ancora qualche breve piovasco nelle zone interne non si esclude però il peggioramento nella giornata di domenica i giornali, un furto ogni due ore, allarme, il titolo è d'apertura del messaggero reati in calo rispetto all'anno scorso ma per la prefettura non si può abbassare la guardia meno colpi a Pesero e Fano, di più a Urbino pronto il piano straordinario dei controlli estivi a centropagine il festival, la presentazione ufficiale a Roma del Pesero Doc Festival Zingaretti lancia il suo doc con il sindaco di Pesero Matteo Ricci stop al degrado, così rinascerà il centro direzionale Benelli il comune dà il via libera ad un progetto per il recupero dell'intero complesso e poi oggi inaugura in Viale Trieste a Pesero il Nautilus l'albergo dei record, l'ultima sfida di Nardo Filippetti fondatore di Eden Viaggio è stata quella di realizzare una struttura ecco, sostenibile, tutta in legno Fiction su Lucia Annibali, il cast saluta la città grazie Pesero, da oggi a sabato, ultime riprese a Urbino l'attore Averone dice un bellissimo raggio di sole la pagina di Fano invece del messaggero è sull'ospedale il futuro del Santa Croce, metà pubblico, metà privato Ceriscioli incontra il comitato fanese e chiarisce i progetti sull'attuale struttura sette quesiti sul perché del nuovo ospedale ma le risposte non hanno convinto tutti tra questi anche Marta Ruggeri dei 5 Stelle che dice tutto molto confuso, prevedono tempi lunghi mentre ci dicono però che non c'è tempo per il referendum sotto rogo al pesce azzurro il peso di Dicorato Giuseppe Ruggero Dicorato, uno degli esecutori materiali dell'incendio che il 15 giugno del 2010 devastò il noto ristorante di pesce a Fano che tra l'altro è morto nel dicembre del 2012 ma raccontò a due testimoni non sapete che cosa mi hanno costretto a fare ora quei due testimoni hanno partecipato al processo ieri a Pesaro andiamo sulla pagina, sul Corriere Adriatico la pagina di Pesaro apre con la cronaca razzia di tabacchi sotto gli occhi dei militari armati di jammer svuotano l'auto di un rivenditore e non si accorgono di essere seguiti dai carabinieri che cos'è il jammer? il jammer è questo apparecchio elettronico qui che tiene in mano il capitano De Gori e che serve per disattivare le chiusure delle portiere delle automobili ecco, è un apparecchio elettronico che serve per disturbare le frequenze andiamo avanti sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico anche qui troviamo ancora l'argomento caldo quello che è emerso dopo l'operazione di polizia dei giorni scorsi che ha portato alla segnalazione di diversi giovani tutti minorenni, studenti che è la cosa drammatica che erano entrati in un giro poco raccomandabile allora droghe e furti il disagio sociale aumenta gli operatori confermano l'allarme dell'inchiesta ragazzi apatici senza lavoro in cerca di soldi facili il fumo delle sigarette viene sperimentato alle elementari e a 15 anni sanno già tutto sugli stupefacenti la regione dà altri 10.000 euro invece a passaggi festival scongiurato il deficit e il trasferimento da Fano il vice sindaco conferma l'interesse del comune per questa manifestazione culturale al Santa Croce resteranno 120 posti letto è l'ipotesi indicata da Ceriscioli a referendare i comitati la Ruggeri dice non siamo soddisfatti ieri in regione l'incontro su ospedale unico e riforma il governatore non aspetto la consultazione popolare ancora dalle pagine del Corriere Adriatico quella di Pesaro panico alla festa oggi c'è l'interrogatorio del 49enne marocchino che l'altro giorno, sabato si è presentato alla festa alla festa Pantano 85 a Pesaro puntando il coltello alla gola della moglie che stava lavorando negli stand della parrocchia ed è emerso che questa donna in passato lei ha 46 anni aveva già presentato una querela ai carabinieri di Cattolica denunciando le violenze subite da parte del marito con il quale sta da circa 13 anni allora andiamo adesso ancora sul Corriere Adriatico però questa volta la pagina di Fano e Valle del Cesano Olimpia quando lo sport è benessere si inaugura sabato il centro polivalente rinnovato attenzione particolare per bambini ed anziani e poi da Senigallia invece i vandali che agiscono di giorno e a volte anche di notte mentre gli scambisti di notte ai giardinetti vicino alla rotonda la famosa rotonda di Senigallia distrutti giochi e panchine mentre c'è anche il fenomeno del carsex nelle ore notturne la pagina di Pesaro la pagina principale del resto del carlino è per i ladri di fumo per la coppia di Napoletani che è stata arrestata dai carabinieri questa coppia seguiva e derubava i tabaccai bloccando i telecomandi delle loro automobili e poi c'è il Frecciarossa il Frecciarossa che è stato cancellato dalla stazione di Pesaro adesso sono partiti gli appelli e le polemiche politiche c'è un'interrogazione parlamentare su una scelta anti-economica protesta anche Barletta le pagine interne vediamo quella di Mondolfo la Fano e Valle del Cesano questa è la fotografia della squadra del neosindaco di Mondolfo Nicola Barbieri con i suoi assessori e con i consiglieri della sua lista Assessore Andreoni la spunta su Elena Mattioli ecco tutti gli incarichi dello Giunta Barbieri l'esecutivo si insedierà giovedì 23 Filomena Tiritiello sarà presidente del Consiglio i criteri dice il sindaco per la scelta di questa squadra sono stati valutati i meriti, le competenze e la disponibilità di tempo la regione dà un passaggio a Minardi trovati 20 mila euro in bilancio per scongiurare la perdita del festival passaggi poi si risponde alle polemiche Marchegiani lo fa dicendo che i fondi non erano assolutamente stati dirottati per consentire l'organizzazione del concerto di Francesco De Gregori che ci sarà nel mese di luglio in piazza 20 settembre a Fano tutto falso, il concerto al comune di Fano non costa assolutamente nulla Ceriscioli insiste, Santa Croce chiuso, il derby è tra Muraglia e Fosso Signore le forze politiche e i comitati sono delusi dall'incontro non si aspetterà l'esito del referendum e ancora bonifica ex Agip sono iniziati i lavori pereni un anno di tempo interventi a Lido e idee a Ronco Sambaccio il sindaco invece chiede alla Saipem di conoscere i suoi piani industriali per assicurare soprattutto gli operai, i dipendenti, le persone che lavorano nella sede di Fano ha incontrato il sindaco Seri, i rappresentanti sindacali che sono preoccupati appunto per l'occupazione la pagina di Fano è sulla questione della sicurezza vicino alle scuole il preside in trincea, voglio più uniformi davanti alle scuole a Dari segnalò i movimenti della gang il quadrilatero, quello pericoloso dove ci sono frequentazioni poco raccomandabili sono la scuola Gandiglio e la Padalino Chiostro delle Benedettine e il Pincio sono queste le zone indicate come zone a rischio poi in fondo vedete la vetrina che è stata sfondata da un ubriaco un ubriaco fuori di sé in via Cavour in centro a Fano, fermato dalla polizia e poi rilasciato è tutto, la rassegna stampa finisce qui grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona giornata Grazie a tutti